È un primo piccolissimo passo, però una partita ufficiale, subito una vittoria, si dice che chi ben comincia, insomma, è un vecchio adagio, però in questo caso si può tirare fuori. Sì, è stata una bella partita da parte dei ragazzi, è chiaro che ci sono anche tante situazioni ancora su cui lavorare, però è normale. Mi riferisco al primo corso subito, piuttosto che a una gestione diversa che potevamo mentalmente sfruttare un po' di più considerando anche la superiorità, però fa parte di questo periodo, quindi nulla da dire, ci prendiamo questo passaggio del turno che ha tanti risvolti positivi sia per la fiducia che per l'autostima, che ci permette ancora di giocare domenica alle porte del campionato, quindi c'è da essere per gran parte soddisfatti ma allo stesso tempo equilibrati con i piedi per terra per chi possiamo ancora crescere di tanto. Dal punto di vista psicologico però prendere un gol subito spesso può essere un motivo di frenata, e invece la squadra ha reagito subito. Sì, ha reagito poi contro un avversario che era la condizione peggiore, perché comunque è una squadra, come accennavo ieri, che ti attacca molto in verticale, sfrutta molto le seconde palle, lo stesso i calci piazzati, siamo rimasti lucidi, abbiamo tenuto botta sotto questo punto di vista e allo stesso tempo, secondo me il primo tempo più del secondo tempo, poi abbiamo fatto emergere quelle che sono le nostre qualità, creando tanto, andando in vantaggio meritatamente. Ripeto, poi il secondo tempo tante situazioni hanno condizionato, però è un ulteriore spunto per far capire loro che poi le partite sono lunghe, hanno preso una traversa sul 2-1, quando invece la partita poteva essere chiusa molto prima.